Il nostro Fusalemme, le leggende che il Messia stanno giuffando non farmi perdere tempo con le leggende. Una cosa voglio sapere, Marcello Gaglio e Diana, perché non avevano paura di morire? Forse non sono morti o Cesare? Non sono morti? Stando alla loro superstizione. Il loro re, questo Gesù, diceva, chi crede in me sebbene già morto vivrà, chi vive in me non morrà in eterno. Sono parole sue come le ha riportate una spia. Quei cristiani erano sicuri di vivere per l'eternità. È ridicolo. Certo, ma il fatto è che loro lo credevano.